Eeeh, salve a tutti ragazzi, io sono Tratito e oggi abbiamo visto un video. Oggi siamo su Minecraft World Adventure Skywars. Ragazzi, prima di iniziare, volevo dire che cerco un intro maker. Quindi, se siete un intro maker, contattatevi in privato. Mentre se avete un amico intro maker, mandategli questo video. Vabbè, possiamo iniziare. Yeah! Ok, dai. Dai, 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 dai. Oh! 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 TPD, guarda morre,estrare, brazi? Oh! 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 Eccolo un faro. O, non mi trovo davvero pari. Cosa? ma anche ciò è che cazurale è che cazurale No! No. No! 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 Stronzo di merda! Stronzo di merda! La floreta di merda! Abre la maestra delle schiuniche. Per il rato di merda! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.